Allora, Africa Twin colorazione 2019. Perché colorazione? Perché alla fine non è cambiato nulla. È cambiato solo la colorazione in alcune versioni, parliamo della Red Rally. Red Rally hanno levato la trama Carbon Look dal nero, cosa che c'era sulla 2018, non c'era sulla 2017. Hanno scambiato i colori, anche sui lati hanno scambiato i colori, ciò che era nero è diventato bianco, ciò che era bianco è diventato nero. Nuova la scritta, anche qui niente Carbon Look. Strumentazione e comandi sono rimasti gli stessi. È cambiata la colorazione del serbatoio, non abbiamo più quella striscia bianca qua che aveva un po' poco senso. Adesso abbiamo una nuova striscia un po' più simmetrica, un po' più carina. Cambiato l'adesivo sul fianchetto, è differente. La moto è la stessa, non cambia nulla. Sempre per la colorazione Red Rally, cambia il maniglione, non è più grigio, è nero matte. Sul posteriore non cambia nulla, a quanto pare di tecnica non sia cambiato nient'altro. Strumentazione confermiamo che è la stessa, i comandi sono gli stessi e così come tutto il resto. Cambia il parafango anteriore, non è più colore in tinta con la carrozzeria il parafango, perché come detto prima si sono invertiti i colori. Ciò che era rosso è diventato nero, ciò che era nero è diventato rosso e basta. Grazie.